Vabbè questa è facile, lo sai che è questa? E dilla un po' Questa è Bazzano Visto? E' fatto? E' stato serio? Ce l'hai fatta? Ci riesco Ce l'hai fatta? Ok Spazio libero Spazio libero Spazio libero Lo spiego un po' col rap Sport, musica, attualità Quello che trattiamo dentro questo podcast Seguici per restare aggiornati Spazio libero Notizie del giorno sul computer, sul telefono Scrivo, scrivo Parlo e dico Dico Ho un dubbio sulla politica e scrivo Scrivo Dopo premo invio Spazio libero Buonasera a tutti ragazzi Bentornati qui da Spazio Libero Sono Nicolás E oggi ci troviamo qui Con un nuovo ospite Che questo tipo di... Aspetta, non ti presento Aspetta, stai calmo Allora, questo ospite Diciamo, non è mai questo tipo di format Che fa lui Non l'ho mai chiamato ospiti così Perché ero un po' indeciso Però oggi siamo qui E lo presento Lui è? Alessandro Bucci E viene da? L'Aquila Ok Ok Buonasera Ciao No dai scherzo Allora L'ho chiamato Da un bel po' che doveva venire lui Questo ragazzo L'ho chiamato un giorno E mi ha dato buca Perché la macchina gli ha dato buca E niente Quindi abbiamo posticipato Però oggi ci siamo incontrati Anche se hanno fatto un giro molto lungo Sono andati Hanno visitato l'Abruzzo Siete andati con il car sole Hanno fatto tanti Abbiamo sbagliato l'uscita Abbiamo sbagliato l'uscita C'era un'uscita da fare L'hanno sbagliata Cioè non è che Mi sono fidato del compare Lui E che non vedete Però c'è il suo compagno di fiducia Mi sono fidato di lui E niente Purtroppo Sono nudi Apposta per un bel aperitivo Che dopo faremo Giustamente Giusto? Ok Non rifiuto Ecco qua Non rifiuto Allora raga Lui fa TikTok E ora mo scoprite Vi farò vedere una presentazione Che ho fatto con Un vero amore E ci ho messo tanto A fare questa presentazione Hai paura di questa presentazione? Guarda Dopo Ormai non ci ho più paura di niente Ok Meno male Aspetta di tutto Dai meno male Allora Camera man Mi metti la telecamera Sulla Sulla televisione E sei pronta A fare la presentazione Per loro E paura Ok Non si apre la presentazione Non ci voglio No Non ride Non ride Allora Eccola qua Ci stai? Sulla televisione? Ok Ci siamo fino a qui Non guardare qui Che ti spalergli la cosa Giusto? Vabbè Allora Ok Vedi? E lui fino a qui Fa TikTok ragazzi L'abbiamo detto prima Di dov'è? L'Aquila Dell'Aquila Ok Mamma mia Figa eh E si chiama Alessandro Bucci Eh Fine Ok Questa è la presentazione Che abbiamo fatto Ok Perfetto E oggi questa qui È un'intervista molto Aperta Lui mi ha detto Prepariamoci qualcosa Ho detto No voglio essere il più trasparente possibile Che è L'ho conosciuto E quindi è davvero così Allora Perché Hai deciso di Fare TikTok Che Ci vuole un po' di coraggio Allora Non l'ho mai deciso Da solo Ah ok Cioè io partì per scherzo Durante la quarantena Come fanno un po' tutti Come un po' tutti Esatto Mettendo TikTok così A caso Sì Un giorno usci in centro Con un mio amico Davide Murgo Ok Che salutiamo Ciao Davide Ciao Davide E mi disse lui Ma perché non ti crei un format Tipo parlando dell'Abruzzo Così quella Perché mi ricordo Era estate Ok E già cominciò a far freddito No Sì Quindi vabbè Decendo sempre Ma solo qua Com'è possibile Solo qua Ah sì ho visto Sempre caldo Quella E quindi partì il primo video Ok Che c'è ancora sul profilo dell'altro Io lo feci proprio quella sera Pensando alle parole sue Ok Quindi se non fosse stato Diciamo per lui Ok Non avremmo cominciato a fare questo format E non saresti TikTok TikTok Sempre grazie a un altro ragazzo Sempre a Francesco Sempre un bacio a Francesco Ciao Franceschino Rivela Ok E mi disse qua Proffa TikTok Quella che se no ci riesce Quella è là Ma non mi Non ho mai detto Che se ci riuscite Cioè a me piace farlo La gente La brutta è sempre comunque Vabbè la brutta Piccolo piccolo Non voglio dire che è la miglior regione Ma è la miglior regione Si mangia bene Si sta bene Che cazzo vuoi C'è nel senso Giusto? Eh ok Normal C'è tutto Eh ho visto Ti aspettavi questa cosa Un po' così Cioè nel senso Quel primo video Tu dici cazzo C'è avuto un boom E poi continuato Cioè ci sta anche la costanza No perché mi sono reso conto Che è un figlio Che la gente Uno che lo vede Ok Lo condivido ad un amico mio Che è magari dell'Abruzzo Anche se lo vede uno di Milano Ok L'amico abruzzese Cazzo io lo mando Ok Va diciamo Noi abruzzesi siamo Credo mondiali Ci conoscono tutti Sì ma soprattutto Per gli arrosticini Se non lo so Per la carne Per la carne Ci sa L'Italia conoscono mafia pizza E arrosticini Giusto Perfetto Non più berlusconi Arrosticini e basta E segno un po' A che ed è iniziato Allora Vi dico una cosa Prima ci siamo fatto Un po' la struttura E mi chiede Quanti anni hai E gli ho detto Guarda io ho 20 anni E gli ho detto Te quanti me ne dai E gli ho detto Vabbè 21 22 Mi dice No ho 17 anni Io ho 17 anni 2005 Io ho detto No no Non è possibile ragazzi Tra due mesi 18 Ha 17 anni Io l'ho detto No è invece sì È 17 anni Quindi è iniziato a 15 Iniziato sì 14 Quarantena Primo lockdown Tanto che nessuno Facciamo un cazzo Da tiktok E twitch Credo Ed altri siti Che non staremo a dire qui Giustamente Allora Io l'ho voluto invitare qui Poi faremo una cosa Che fa lui Che si è creato Un format suo Quando l'ho sentito Per telefono Mi ha detto Sì io mi sono avuto Creato un format Che non c'era Girando tiktok Ti hai visto Che questa mancanza Ho visto il format Delle bandiere Sì ma L'ho votato Tipo Usce la bandiera Turchia La gente Spera una stanza Diceva che l'inghilterra Ok perfetto Io l'ho fatto Abbiamo Lo faccio Regioni abruzzesi Paeselli Non regioni Capoluoghi Capoluoghi paesi Ok Ed è andata bene Questa cosa Mi è piaciuto Quando va Eh ma minchia Cioè io Delle volte Mi strippa Non so sarà lui In macchina Un video che hai fatto In macchina con il ragazzo Che è stato in macchina Per te Non te lo so Alessandro Può essere valutato Cioè io Lo vedo Stil loop quel video Perché mi fa morire Sia te che lui Che sparate Dei paesi Che poi Io non li conosco Cioè hai visto dell'Aquila Non è che conosco Belli paesi Ne conosco tre Due me ne avete consiglia di voi Però nel resta sempre Più serio possibile Per rendere la cosa credibile Capito Sì è quello che Io non ti spacca Io Allora Ho dei problemi a recitare Tra virgolette Cioè non riesco a stare serio Io sono un ragazzo Che ride a qualsiasi cosa Quindi Il camera non ci pia per culo Dicevo Io non riesco a essere serio Quindi Sarà difficile Perché lo vorremmo fare Un'altra un po' Non è capitato A me l'inizio Magari veniva Da ridere di brutto Tagliavo subito E li facciamo da capo Dai vedi Francia E dici scoppito E la potresti ridere No No È normale È talmente abitato Che lo faccio C'ho tantissime boss E pieno con quei video Quindi scoppito Una che praticamente Dico sempre Eh sì Quella conosco E bacia E scoppito D'altre tre Che non le dico Non si dico Non le so Capito È un cazzo di casino Senti un po' Io so che te Nella vita non fai Cioè Sì TikTok è un hobby Però fai anche altro Giusto? Mi piace suonare Mi piace fare il DJ Non Non ho tempo pieno Ok Quando ho la possibilità Mi chiamo persone a festa Ogni tanto pure Lo staff Che c'è dentro La discoteca Eh la puoi dire La puoi anche menzionare Di one Bambola Bambola più per il verde Dove c'è Ah ma è la bambola Bambola io c'entro praticamente niente È più per il verde Ok Per il verde viene gente Un po' più grande Quindi universitari B1 è più che altro Festa delle scuole E c'è questo ragazzo Francesco Grande Che saluto Ciao Francesco Che lui un giorno vide Il mio profilo DJ appena aperto E gli serviva un ragazzo Comunque che voleva imparare Quella poi Da lì mi ha preso con lui Mi ha imparato E quando ne ha la possibilità Mi chiama per andare a suonare Io ci verrò qualche giorno Perché non ci sono mai venuti Cioè Non pensavo che c'è Che era la bambola Perché la conosco come bambola Qui la sera Bambola e B1 Il locale viene identificato Un po' Bambola diciamo che è un format Che c'è il venerdì Ogni venerdì Sì perché qua diciamo Alla bambola Il venerdì Quindi ora ho ricollegato E sarò Verrò Verrò So che Forse l'università All'Aquila Verrò a fare E ci vedremo Molto spesso All'Aquila E niente Quindi te Fai il DJ Che cosa suona Cioè Che cosa ti piace suonare Principalmente Mi piace tantissimo La Tech House La Tecno E Anche canzoni Volo avere adesso Tipo che va a sci Iva Magari qualcosa Molto più commerciale Remixarlo nel modo Magari più dense possibile Ok Quindi Tipo soldi voliti Mi sapete di primo Sì Soldi voliti Ho visto il remix The Tech House E lo suona molto spesso Vabbè Dai non è male Allora Te hai 17 anni Io non ti ho chiesto L'età Quando ci siamo conosciuti Per telefono Perché pensavo Che eri Tipo No cazzo Ho detto Lo vedo grosso 22 anni Mi hai dato tu Porca puttana Allora Fai conto Che ti viene un ragazzino E ti dice Voglio provare a fare Anch'io TikTok Te che come gli rispondi Cioè ti parlo da me Che io TikTok Ho messo un video Con i ragazzi Di Mare Fuori Che saluto E un video Ho messo E che c'ha avuto 600 persone Non so usare TikTok Giuro E quindi Non So registrare Il video E ballo pubblico Metti due Stag stupidi Che ti capitano Ti giuro Io Per te tipo Virali FYB Che serve for you page In inglese Abruzzo e rosticini Basta Io so solo per te E roba tipo virale Io ho messo quel video E l'ho lasciato stare E poi Un giorno dopo C'ho tipo 15.000 Visualizzazioni Che per me Sono tipo infinite Per te No Quando vedo già 9.000 10.000 Visualizzazioni È come se fosse Il primo giorno Che mi sembra Cioè comunque Non ne aspetto mai di più Quello che esce Ma te fai Molte di più di me Io Non so come si usa Quindi se metti Caso un ragazzino Ti chiede Voglio fare TikTok Tu che cosa gli dici Perché no Prendi il telefono Fai TikTok Ovviamente Cioè lui Partirà sicuramente Con una cosa magari Vista già Su gente che Segue già Certo Però Vi vorrei consigliare Che ne so Un format Creati un format La prima cosa Che gli dico Sicuramente Guarda Creati un format Oppure se vuoi Se vuoi provare A diventare Magari un po' più virale A farti A farti Quelle visual in più Però va a crearti Qualcosa di nuovo Che la gente Piace Che la gente Vede quel video E ha voglia di condividerlo Con un amico Con un parente Oppure Io penso Che su TikTok Le femmine Ci hanno un passo avanti Come dice Che il gazzaro Mi tira più Un velo Che un caro di bui Purtroppo Le femmine Su questo Ci hanno Un futuro È vero Non ci sta niente Allora Lui si sta sforzando A parlare italiano Perché Lo sento Che ogni tanto Perde la sua concentrazione E parla di italiano Purtroppo Il dialetto abruzzese Io Lo parlo Non so Se si sente La mia cadenza abruzzese C'ho un po' di cadenze Ok E Quando Noi abruzzesi Parliamo Specialmente veloce O quando ci incazziamo Raga Non capite davvero nulla Cioè Vero Peggio del napoletano Eh sì Tipo Partela Arabo Ciao Tutti i miei amici marocchini Eh Sì Vai con Shazam E ti esce Ciao Ciao E non ho capito No perché hai fatto Cadenza marocchina top Il posto Casablanca Sì Pablo Escobar Ho visto parecchio Pablo Escobar Però quello è spagnolo Non so se c'è Ok Tagliamo questa cosa Ok Va bene Riprendiamo Cosa dovevamo Rimasti Si va la tagliata Normalmente Allora Io Lato Questa tosse è da Natale Non è covid Perché credo che non esiste più Vorrei provare a fare quello che fa lui Non so se è una buona idea Non l'ho mai fatto Proviamo Proviamo Vabbè Allora Ti stacco l'HDM che porta al computer Ok E questo Devi venire un po' verso il centro Perché io non so E voi vedrete alla televisione Se si vede Perché non Se no poi vi metterò il tiktok Quando andrà in È il contrario Ragazzi non è Non c'entra il buco No prova Spare meno la cosa Avvicina il microfono Tu sono lonti Senti Giro di verso di te No sei proprio Tu c'hai ragione Sì lo so E proviamo a fare queste cose Si vede? Aspetta non si vede Bene Ok Ciao Luisa Ciao Luisa Salutiamo Luisa Ok Si gira No ho sbagliato Devi girare Allora adesso tu vai qua Cerchi flex Sì però ti ripeto Prima di questo video Abbiamo detto 5 città Di città Paesi Facciamo Frazioni Dell'Aquila E' detto Non mi dire queste 5 Perché Cioè io so questo Ti ricordi Vai parto io Ti giuro non parto con scoppito Vai ci sto Ma si vede dietro Sì che si vede Vai Vabbè questa è facile Lo sai che è questa? E dilla un po' Questa è Bazzano Visto? E visto se sei stato serio Non ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Ok ci provo Vai prova tu Vediamo un po' Dai non San Gabriele con le dara Amore 100 giorni Bella Bellissimo Ok Vado Vai Ah quindi tu stoppi col dito lì Capisco Non è più comodo A me Questa è Casella a fiume Ha fatto 100 giorni Por io Assurdo Cioè proprio Coincidenze Capito Coincidenze Paurose Cioè Mamma mia Non me l'aspettavo Non fa l'apposta Dicito Non fa l'apposta Tortoreto Tutte l'estate In vacanza Tortoreto Io pensavo che era Albatriatica Lo sai Potrebbe uscire Albatriatica Potrebbe uscire Albatriatica C'è Hai visto Abbiamo appena Albatriatica Escele dal batriatica C'è mamma Mamma mia C'è non lo so Capito La stronzata Di queste Di queste Con Facciamo L'ultima Due Giro Sono Andando A droga E ti voluto Pagliare C'è tempo Per l'ultima La dirai Aquilana Ok Ci provo Mi ricordo Quello che abbiamo detto Io so Tre paesi Ma dico Porco È scoppito Eccola È palese Scoppi Oh come è andato Addio Addio Eh posso Incominciare a fare Tiktok È normale Aspetta Ti stacco Il coso Che rimettiamo Oddio Sembra Non mi Pensavo che stavo A me la scrivania Per un secondo Mi sono preoccupato È figa Come cosa Ci sto E Sono andato È una stronzata Che è simpatica Alla fine Sì ma È molto Abruzzese Devo dire Perché noi Abruzzesi Sull'ironia Andiamo forte No Io faccio Autorinia Sulla mia città Che è la cosa Che ho più cara Al cuore Certo Ci faccio Ironia sopra Comunque Quindi Hai capito Dove sta Civita Dandinomo Non uscirai Più a Carzoli Per venire qui Speriamo Perché Vabbè ve l'ho detto Non so manco Se riesco a uscire Per tornare a casa Ok Che te ne pare Di ciò Io sono rimasto Sorpreso All'inizio Mi trovo davanti Un parcheggio Una via E ho visto E ho visto Sto struttura Ok Ho capito subito Che eri tu Ok Ti ho detto Che passeggiavo Da mangi Sì Ho visto Il cappuccio Che faceva il giro Rotondo Minchia Che faceva freddo Ho detto Vado qua Là E qualcuno Che mi accoltella Subito Poi Nicola Ok Ho detto La valla Spacca Ok Sono entrato Mi sono ritrovato Musica a palla Ok Musica a palla Uno studio bellissimo Perché lo studio È bellissimo Mi hai fatto vedere La struttura Mi è piaciuta Molto Faremo diventi L'ospitalità Clamorosa Vabbè Ti ho offerto Un caffè È normale Non è bruxesì Siamo Sono rimasto stupito Da tantissimo Dall'attrezzatura Che c'hai Anche di là Eh sì E ancora Devo riportare Parecchia roba Quindi Un po' di roba Quindi Immagino Segnò Di una cosa Ma per cazzo Voi favete Quello Che è il tuo Accompagnatore Vuoi fare Un attimo Qui Dai Che lui È quello Che l'ha Fatto perdere Lui è quello Che l'ha Fatto perdere Buongiorno E credo che Loro due Si vogliono Abbastanza Si vede Si vede Tanto E Ecco lui Io con lui Ci faccio tutte Le stronzate possibili Immaginabili A scuola Se non ci vado Se non ci vado Di mezzo io Non ci vado Di mezzo lui E viceversa E con lui Anche il mio compagno Tante volte Di tiktok Eh sì Infatti C'è una faccia Di bandiera Ok Visto Ok Grazie che l'hai Portato qui Nel suo attista Personale Chapeau Come dice Cassano E niente Io Sei simpaticissimo E noi abruzzesi Ci abbiamo Il feeling Proprio con tutti Cioè non credo Che noi Specialmente Di pelle Terra Siamo abbastanza uguali Perché siamo Trasparenti entrambi Quindi Diciamo Le cose come stanno Non mi interessa Chi ho davanti E credo che È la più Bella cosa Che ci può stare Quindi Quanti minuti siamo 20 3 Ah beh dai Come la data Non è male Abbiamo 20 minuti Di parlato Ci siamo divertiti Abbiamo fatto cazzate Sta arrivando anche L'ora dell'aperitivo Devo dire Eh E dai L'aperitivo Ce lo siamo meritati Dai No Se me lo sono meritato Lo devi dire tu Te lo sei meritato Ok Io me lo sono meritato Dai solo per la presentazione Che tu Non ti posso Ma solo per la presentazione Che tu ho fatto Allora la presentazione A te potrebbe sembrare Una banalità Ma hai preso Precisamente Il punto Io ho guardato La cartina Non so Che Cazzo era Mi sono reso conto Ho fatto questo Veramente messo la cartina A giocare su google maps Su powerpoint Io ho fatto lo podcast Sopra Sì l'ho fatto Che poi il fine Alla fine Fine È figo eh Cioè è stata una cosa appunto Che cazzo devi presentare Sono un ragazzo dell'aquila Che vive all'aquila E che Ah fai tiktok Ho messo anche lo Tiktok Tiktok Quindi tiktoker Alessandro Bucci Che vive all'aquila Che cazzo devi di più No A fine Perciò è stata Breve coincisa Capito L'ho studiata questa cosa Esattamente L'ho fatta Quel giorno che mi ha dato buca Poi ci sta chi si aspetta Lì magari si aspetta Un edit mastodontico Con gli effetti speciali Sì la biografia Autobiografia Libri Che lui ha scritto due libri Una presentazione su powerpoint Con tre immagini Bella Bellissimo Assolutamente sì E raga È stato un piacere Avere qui Alessandro Seguitelo su tiktok e social Comunque vi lascio Tutto in descrizione Non mi seguite Non fate quello che ho appena detto Perché Non mi seguite No perché si vuole ritirare La sua carriera appena iniziata Capito Tante volte penso Ho detto Ma non è che forse mi pento Ma che il giorno dopo Mi sveglio la mattina No cazzo voglio eliminare il profilo Il giorno dopo Perché cazzo voglio eliminare il profilo Questo si Avvore un po' di salimento nervoso Però Stai parlando con uno Che lo fa quasi tutti i giorni Io abbiamo il gruppo Delle associazioni Che ogni tanto Ci svegliamo tutti un po' Così E diciamo Vogliamo abbandonare E non ti sembrerà Ma capita pure a me E poi Escono progetti E poi Ci escono copioni Da 200 600 pagine Da leggere Perché È così Purtroppo Purtroppo Cioè purtroppo è esotico È erotico Non è esotico Niente Oggi non azzecco le parole Comunque Alessandro Grazie della tua Presenza E ci vediamo Al prossimo episodio Che ci starà Boom Finito Non si Non ci No 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 Non si può dire Cioè Sapete che Il prossimo episodio Ci sarà questo ragazzo Di mare fuori Vi dico solo che è un ragazzo Ragazzo o ragazzo Ragazzo o ragazzo Forse una ragazza Stiamo aspettando il suo esito È un ragazzo È un ragazzo È un ragazzo Quindi ragazzi Se vi è piaciuto questo video Lasciate un mi piace Noi Vi salutiamo Ci salutiamo È stato un piacere Bella ragazzi Ciao ciao Da Spazio Libero Bella Ciao